si si cioè ciao capo e buongiorno e sono l'obiettore del comune di dolo e sto facendo il giro dei quartieri per aiutare i vecchi a stilare il censimento della popolazione delle abitazioni 2011 e la sua abitazione è nel comune di dolo se è sempre stata qua una settimana fa lei era in questa abitazione al momento del censimento lei abita qui ma non so sicuro aspetta un attimo che controllo e buongiorno serco angelo cararo bene bene lei abita qui allora ma ieri era sempre stato qua da cinque anni fa abitava in questa abitazione ma certo ma è sicuro si ma domenica non è che si è assentato un momentino per andare aspetta il signor angelo devo fare l'ultima domanda per il censimento ma insomma e domani la trovo qua grazie mille da parte del comune di dolo e buona giornata a lei grazie mille da parte del comune di dolo e buona giornata a lei grazie mille da parte del comune di dolo e buona giornata a lei grazie mille da parte del comune di dolo e buona giornata a lei grazie mille da parte del comune di dolo e buona giornata a lei grazie mille da parte del comune di dolo e buona giornata a lei grazie mille da parte del comune di dolo e buona giornata a lei